buonasera buonasera signora ho visto un costume azzurro bellissimo avete una 36 per me una 36 sì abbiamo tutte le taglie abbiamo sì ma io mi sono messa a dieta guardi sono dimagrita la 36 va benissimo ma sicura che vuole una 36? ma mi sta offendendo che taglia pensa che è indosso? eh ho fatto la dieta io una 36 va benissimo tanti sacrifici no no tranquilla la 36 le porto ecco signora il costume che mi ha chiesto taglia 36 bello ma perché due slip? signora una per una chiappa e l'altra per l'altra ahia mamma